Il campo si chiama diamante. Abbiamo la prima base, seconda base, terza base, la casa base, abbiamo qui la pedana del lanciatore. Il baseball funziona così, più o meno, diciamo presto a poco, almeno per quello che ho capito io. Comunque la cosa importante è che il baseball è lo sport della sfida di questa settimana. La squadra del Verona si fronteggerà con la squadra del Torino fino all'ultimo lancio. E allora facciamoli incontrare con il campione che Di Seneciana ha invitato sul campo. Ciao! Mi sono venuto a vedere oggi a giocare. Quando è che iniziavi a giocare? Ho cominciato a giocare veramente molto, che ero molto giovane, avevo 5 anni, 5 anni e mezzo. Ah, piccolissimo! Vi ha sempre rispetto di questo gioco. Nel momento in cui riuscite a giocare contro il baseball, qualsiasi avversario vi capiterà, vi riuscirete ad avere la meglio. Le sconfitte sono, credo che siano molto importanti, anzi molto spesso impari molto di più da una sconfitta piuttosto che da una vittoria. Se pensiamo che un buon battitore batte bene una volta su tre, no? E quindi sbaglia due volte su tre, vuol dire che è veramente molto difficile battere. Spiegami perché vai sempre a prendere la palla nel girare il doppio gioco con una mano anziché andare con due. Quando fai il passo, invece di fare il passo verso il lanciatore, ti apri. In seconda base, devi fermare la palla, non la devi prendere. E con l'altra mano? La faccia e la sigla e la sigla e la sigla e la sigla e la sigla. Questa è la posizione. Credo che sia uno sport anche bello da vivere perché ti dà la possibilità di fare esperienza di gruppo, però al tempo stesso devi prenderti le tue responsabilità perché quando sei da solo a battere contro il lanciatore non puoi scaricare le responsabilità su un compagno. Per me il rapporto con l'allenatore deve essere, e lo è sempre stato, solamente uno, di massimo rispetto. 3, 2, 1, non ci batte più nessuno! Sfida! Siamo! Facciamo! Li avete visti? Loro sono i protagonisti della sfida di questa settimana. Già tifate per l'una o l'altra squadra? Secondo me questi non scherzano. Massimo, la sfida vedo che sta per iniziare. Gli arbitri fanno l'appello, chiamano ogni giocatore per cognome, loro si presentano all'arbitro dicendo il loro nome e il numero di casacca. Il punteggio dovrebbe essere 3-0 per la squadra di Torino. Questo quindi serve un altro punto adesso? Questo è un altro punto, perché il Torino, diciamo che ha preso coraggio da un attimo di titubanza che aveva all'inizio, adesso secondo me sono belli carichi. Andiamo, andiamo! Grazie, qua veloci! Non è finita la partita, ragazzi. Quello che dovrà fare il Verona è quello di riuscire a non far respirare tanto il Torino, quindi aggredirli immediatamente, farli capire che ci sono anche loro in campo. E' il quarto fortuna questo. E' il porta fortuna, e forza adesso, mettercela tutta, ce la potete ancora fare, dai! Lui è lì per chiamare le palle, può anche sbagliare, hai capito? Tu te ne devi fregare, seguite a tirare dentro! Come va ragazzi? Non dovete mollare la presa adesso, eh! Si decide tutto con una battuta. Non fa male, però per poco, eh! Per questa settimana è finita, Grizzly Dinos 1-0 Arrivederci alla prossima sfida! Dove more persone! Touch��어! Grazie a tutti